Guarda il gol! Indisturbato! Mi raccomando playerini, vi ricordo di supportarmi su Fortnite usando il mio codice creatore Tecnoid96 per ogni shop che farete nel negozio di oggetti. E mi raccomando, se shopperete usando il mio codice, fate lo screen, mettetelo su Instagram, taggatemi così da finire nei miei prossimi video di Fortnite. E buongiorno a tutti i perini miei, benvenuti in questo video come sempre su Tecnoid96, siamo tornati con un uvissimo video registrato in live su Twitch insieme ai playerini qua come sempre che stanno salutando tutti quanti, salutano YouTube, salutano le proprie madri, salutano chi vogliono. Oggi ragazzi insieme a loro andremo a fare un minigioco spettacolare su Fortnite, ovvero porteremo Rocket League su Fortnite. Siete curiosi di sapere come faremo? Non vi resta che seguire il video fino alla fine. Ok, sei caricata? Andiamo dentro ragazzi. Allora facciamo un 3 contro 3 e Sakiro fa l'arbitro, dai, 3 contro 3 e Sakiro fa l'arbitro. Allora, ci mettiamo 3 di qua e 3 dall'altra parte, vai. Noi facciamo gol sulla porta rosa, invece loro sulla porta verde. Vai, 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 via, via. Saki, ti ricordo che tu non ti devi muovere. Vai, vai, già punto nostro. Mamma mia, già punto per me. Ho già fatto punto. 1 a 0 per noi. Vai Saki, quando vuoi scendi. Vai, 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 io so pronto. Vai, pia, 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 che io sto in porta. Metti in mezzo. Bravo, bom, che botta che ho dato. Che casino. Nooo, stanno facendo gol. Nooo, hanno fatto gol, raga. Hanno fatto gol. Mannaggia. 1 a 1 siamo. Vai, Saki. Dalla Master, vince. Vai, io sto in porta. Vai, vai, cacciala dentro. Cacciala dentro. Bom, punto. Vai così. GG. 2 a 1 per noi. Aspettiamoli che loro sono pronti. Sì, vai, scendi. Appena vuoi, scendi. Aspetta che lo piglio al volo. No, 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 regà. Mannaggia, il contropiede. Bravo, caccia via. Caccia via. Aspettate, aspettate che la tolgo via. Bella. Dov'è, dov'è, dov'è? Vai, vai, lì. Mamma mia, stavo per dare una gran botta. Vai, caccia, caccia dentro. No, parata, signori. Aspetta che la vado a prenderla. Madonna, che difficile che girarsi. Metti contro il muro. Perfetto. Mamma mia, per un pelo. Io non posso immaginare che lì dentro c'è una persona. Povero Sekiro. Oh, in mezzo. Sono aperte scommesse in line. Metti in mezzo. Vai, in mezzo, Tec. Caccia in mano sono io. Mettetela in mezzo, regà. Vai, master. La porta, l'ho dimenticata. È quella rossa. Uh, bellissimo. Mannaggia, oh, per un pelo. Dobbiamo segnare alla gialla. Sì, alla rossa, alla rossa. Gialla barra rossa. Alla rossa. Rossa barra rosa. Vai, Tec, che no. Eh, ci sto provando a cacciarla via. Vai, vai. Fingila sulla... Eh, bravo. Eh, ma non c'è... Fatto. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aspetta che te la provo a rimettere. Ma no, sono partito via. Mettile in mezzo. E qua, è qua. Vai. Tutti via. Mi son ribaltato. Vai, è mio. Vai, Jack. Colpici sta zorba. Vai. Bam. Vai in mezzo. Andiamo. Mamma mia. Oh, bellissimo. Ma che liscio che ho fatto. Che liscio. Aspetta, aspetta, aspetta. Dov'è? Vai, Master. Ma dov'è sta palla? Mannaggia, mannaggia. Eccola. Eh, niente. È riandata via. Mia, 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 mia. Eh, vabbò. Eh, vabbò. Cacciala via, cacciala via, cacciala via. Bella. L'ho respinta, eh. Vai, regà. Punto mio. Ho colpite. Sono con te. Eh. Mannaggia, colpitela. È mio. È mio. Vai. L'ho cacciata dentro. Levati. Punto. 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 3 a 1. Mamma mia, che fatica ho. Che fatica. 3 a 1. Vai, scendi. Vado. Sì, vai, vai. E poi facendo così, io posso anche moderare. Bravo. Arbitro top, Sakiro Arkan. Vai, l'ho rimessa. E colpiscila. Mannaggia, che casino. Che casino, regà. Che casino. Oh, oh. Corri. Vedete, attimo. Ci sono io. Oddio, guarda, Sak. Oh, ma io. Oh. Salvataggio, signori. Vai. Punto. No. Segnare. Segna. Per l'Italia. No. Ma dai, oh, ma c'è questa che mi è venuta a spingere. La salvo, la salvo. Vai, Tec, risponda. E vai, metti in mezzo, Tec. No, raga, ho fatto una scena assurda. Metti in mezzo. Sulla pedane ho scartato tre giocatori. Vai che è in mezzo. Ma non è in mezzo. È lì ferma, ragazzi. Uno che metta in mezzo. Mamma mia, quello che voleva fare l'air. Regà, ma è lì? Ma chi è che la va a mettere in mezzo? Vabbè, ho gli occhi giocatori che dormono. La metto io. L'altro c'era. Oh, ti muove. Oh, grazie. Aspetta che la sto spingendo. No, eh, mi hanno dato una pacca da dietro che mi hanno messo incinta. Mamma mia. Arrivo. Vai, spingi, spingi. Spingi, Master. Gol. Grandissimo, Master. 4 a 1. Vai, scendi, scendi. Dai, sta via la mano. Oh, io sto in porta, eh. Va bene. Caccia via. Mamma mia, che botta che ti ho dato. Ok. Metti in mezzo. Uh. Mamma mia, oh, non l'ho presa. Attenti, attenti, attenti. La salvo io. Mamma mia, che incidente. Vai, vai, vai. Uh, sta passando. Vai. Ho dato una botta a Sakiro, regà. Signori, qua una quinta potrebbe segnare un gol. Dov'è Sakiro? Guarda che la faccia. Home. Autogol. Chip. Guarda che la prendo in retromarcia. Mannaggia, sei difficile. Cioè, sembra facile, eh. Piatolo, piatolo. Metti in mezzo. Ci sono i good che non girano sulla nebbia. Guarda che la caccio via io. Ma che botta che gli ho dato. Oh, faccio gol? Vero, vero. No, no. Che botta che... Ho fatto gol. Ho fatto gol così. Madonna, regà, gol della vittoria. Spettacolare. Madonna, regà, che vittoria. Vittoria così. Cinque punti così, ragazzi. Allora, aspettiamo che si riaggiorna. Siamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Ok, perciò è quattro contro quattro. Arbitro Sakiro. Noi siamo pronti. Noi dobbiamo fare gol sul rosa. E loro devono fare gol sul verde, eh. Vai, scendi, Saki. La manno. Una manna dal cielo. Guarda qua, guarda qua. Già il gol adesso. No. Mi ha fatto cambiare direzione. Ma ce l'è mezzo, tec. Sono qui. Vai, master. Eh, ma non l'ho, ma non l'ho manco visto. Aspetta che mi giro così, guarda. Ste macchine sono ciccione. Guarda il trick. Sì, ma. Caccia, caccia, caccia in mezzo. Bravissimo. No, contropiede, regà. Mamma mia, che parata che ho fatto. Bella. Madonna, chi hai in squadra, zio? Cioè, tu c'hai tec in squadra, eh. Cioè, mica... Difesa di... Difesa d'acciaio di Tecnoid. Mamma mia, bravo Jack. Bravo Jack. Quando vuoi... Scendi, Saki. Vai, nonna. Dai, la mano, la mano. Guarda. Bello, Jack. Uh. Oh, ma questi prendono me... Cioè, prendono tutto, tranne che la palla. Boom. Porta via, porta via. Guarda qua, guarda qua. Che muovi di che ti faccio il trick. No. Ha fatto la spazio. No. Eh, spazi sta azzorba, spazi. Niente, ci hanno fatto gol. Vai, scendi, vai, vai, vai. Che devo fare? Ma andai a un. Che devo fare? Non ho la macchina. Eh, vattelo a recuperare un quad, zio. No, regà. Mamma mia. Oh, ma sto parando solo io. Ma solo io, regà, paro. Ma chi è che sta in difesa con me? Sì, ma Master... Eh, no, no. È gol, è gol. Vai, vai, vai. Oh, guarda il gol. No, chi è che ho preso? Guarda quello che è morto. Guarda Jack che è morto come un pirla. Uh, guarda lì. Gol indisturbato. Bam. Bam. 2 a 2. Vai, vai, vai. Vai, vai. Arrivo io spingo tutto. Bam. E dei gol. E dei gol. Che gol. 3 a 2. Vai, Saki. Mettete in mezzo. Oh, cacciatela in mezzo. Bravi. Contropiede. Mettete in mezzo. Oh, caccia in mezzo, zi. Porco schifo. Aspetta che la spazzo. Eh, hai spazzato niente. Mi sono spazzato io. Aspetta che la spazzo io. Bam. Bam, che spazzata. Mamma mia. Tech cosa fa? Vai. Oh, oh. È mia, al volo. Al volo. Caccia, caccia. Mamma mia, che botte che gli ho dato. Mamma mia, sono salito per la tangente io. No. Goal. Goal. 4 a 2 siamo. 4 a 2. Let's go. La manno. Mannala, mannala. Guarda il gol. Indisturbato. Caccia il quinto gol. E mamma mia. Vince la seconda partita. Così. Team Technoid. Regna il sovrano, ragazzi. Arriviamo a 3.000 like se volete. Un torneo su Rocket League, ragazzi. E per i miei siamo arrivati fino alla fine di questo video. Come sempre vi ricordo di lasciare un pollice in su. Iscrivetevi al canale. Atterriate la campanellina. Arriviamo a 3.000 like. Se volete fare un torneo, ragazzi. Proprio lo organizziamo su Twitch. E lo facciamo seralmente. Un torneo di Rocket League su Fortnite. Detto qua abbiamo tutta la chat che sta salutando. E direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella playerini. Ciao.